salve a tutti friends dal vostro supercorris eccoci qua ragazzi è uscito un nuovo video su formula 1 23 official feature gameplay quindi si parla di modifiche al gameplay di novità di cose ghiotte a cui non ci interessa voi sapete che io per quanto sia uno dei più grandi critici degli ultimi formula 1 soprattutto l'ultimo aspetto con ansia perché magari formula 1 23 mi farà cambiare idea su quello che è il gioco allora io ho ricevuto l'email oggi per iscrivermi alla open beta vi dico la verità avevo fatto una pre richiesta io su e sport un po di mesi fa che quando uscivano i nuovi giochi se mi volevano far provare anche a me la roba ho ricevuto l'email oggi è stato scritto tutto quello che sono anche i requisiti pc andando a vedere i requisiti pc di quest'anno rispetto all'anno scorso sono uguali ciò mi porta a dire ragazzi che sarà un gioco molto probabilmente a livello di potenziale molto simile a quello dell'anno scorso è questo che mi dispiace perché purtroppo la richiesta base per giocarci sul pc è abbastanza esigua quindi non sarà questo incremento poderoso soprattutto a livello di intelligenza artificiale di guidabilità però andiamo a vedere le novità vedremo perché non ho capito dato che si parla su questi mail appunto dei requisiti pc la paura mia è che mi chiameranno e mi diranno eccoti la versione pc e non la possiamo provare perché non abbiamo un pc però ragazzi ce ne sbatte poco fra un mese esce ce lo giochiamo come al solito e né tante prima tre giorni prima versione ps5 poi al day one proviamo anche la versione ps4 se siamo fortunati ci ridanno anche quella serie ss ce ne frega poco tanto sapete che io su sto gioco porterò sempre una mole di contenuti poderosi spero che sia bello quest'anno proprio per poterlo giocare online quanto sarebbe bello poter fare un campionato con qualche organizzatore di campionati online vediamo non so cosa accadrà come al solito prima di partire col vico con questo video vi invito a scrivere a tutti i miei canali lasciare un like seguitemi sui miei social sul canale telegram delle offerte supercorris offerte amazon dove tutti i giorni metto le miglior offerte di amazon in ambito tecnologie videogiochi c'è fruit lab c'è il canale viola dove stasera torniamo in live c'è la mia raccolta fondi supercorris and friends potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza basta pure un euro trovate il link in descrizione fine mese farò la mia donazione a un ente di beneficenza tutto certificato e vi ringrazierò con nome e cognome di chiunque ha donato partiamo dai allora vediamo qua oh episodio 1 gameplay quindi ci sono anche altri episodio aspettate un attimo allora le prime tre novità sono 35% di distanza gara che si va a mettere tra i 25 e i 50 non male perché se contiamo che al 25 per cento una gara sono 15 18 giri 35 per cento inizia a essere 22 25 giri inizia a essere come una gara sprint pure di più buono questo mi piace questa è una cosa buona perché magari pure chi fa un video chi fa le live vuole mettere una distanza di gara più in là è buono ending e psichis psichis vabbè andamento qua e non si capisce l'altra cosa perché dopo io se cerco di tradurre le cose in inglese faccio sempre danno comunque andamento durante la gara presumo io quindi la guidabilità andiamo a vedere cosa ci tiranno nuovo circuito che è quel nuovi circuiti perché ci sarà sia las vegas sia dovrebbe esserci in alto mi ricordo ma lo vediamo e bandiere rossa andiamo a vedere che dice allora qua belle le riprese perché si vede che gli interni delle vetture sono stati migliorati ci sono volanti più realistici sempre qua la fluidità è estrema ma mi sembra molto simile questa è suzuka silverson australia ah boh qua sta dicendo che comunque sarà migliorata la guidabilità comportamento delle gomme bilanciamento della macchina cambierà comportamento delle gomme cambierà bella la terraria ma mi sembra quella non mi sembra quella di quest'anno vabbè dice che praticamente bisognerà vedere perché in base all'aggressività della vostra guida avrete risultati sulle gomme qua parla anche il comportamento della vettura a livello aerodinamico che sarà importante prendendo così la grafica mi sembra veramente migliorata vedete qua raga qua si vede il cockpit cockpit interno di una vettura si vede che il volante è più realistico anche come illuminazione mi sembra più realistico ma anche guardate lo sfondo sembra che la grafica sia migliorata questa a sinistra sicuramente sarà una versione pc buono ma penso anche next gen vedete pure qua fateci caso i colori più vividi mi sembra migliorato tutto l'insieme mi sembra un po' più realistico è migliorato questa è una buona notizia Precise Drive Contrology che sono delle regolazioni diverse probabilmente un po' più realistiche da poter applicare chiaramente poi il discorso è sempre quello che se non avete un volante qualcosa adeguato ve lo potete vedere il volante della Ferrari non ci azzecca niente spero che sia solo un volante fatto così a casaccio perché non è quello della Ferrari quest'anno qua vediamo una battaglia ravvicinata è importante perché ragazzi questa battaglia ravvicinata qua dimostra come forse l'intelligenza potrebbe essere migliorata visto che non si sono chiusi questi due quindi è buona come cosa speriamo che l'intelligenza artificiale sia stata upgradata 35% di stanza di gara qua vedete anche i dettagli della pista ragazzi questo dovrebbe essere se non sbaglio Zandworth da quello che sto vedendo dall'alto guardate pure i dettagli della pista le costruzioni mi sembra tutto più dettagliato vedremo spero che la grafica sia veramente così perché mi sembra migliorata anche qua le piante guardate la vegetazione ragazzi mi sembra tutto molto più nitido e dettagliato qua stiamo sulla Red Bull Ring Austria qua siamo a spa vediamo delle passi di gameplay buono non male si parla delle opzioni del bilanciamento di varie cose vediamo il pit stop vediamo il pit stop qua ma si ripeto comunque per essere realistico ma boh gli esporti non c'è ne preghi niente hanno degli esporti qua ragazzi in queste fasi si vede una bella grafica bisogna capire questa grafica a cosa si riferisce perché è più nitida e più dettagliata rispetto a quello dell'anno scorso qua sono cambiate le grafiche delle scritte per quanto poi sia un gioco annuale quindi mi aspetto pochi cambiamenti però abbiamo visto pure di notte fasci di luce diversi la grafica potrebbe essere cambiata è da capire se su tutte le piattaforme questa fluidità su PS4 non ce l'avrete mai ma così su Fox 1 vediamo le bagnere rosse ecco qua dice che in caso di incidenti di pioggia grave può arrivare la bandiera rossa qua vedete pure sotto il bagnato mi sembra molto più dettagliato il tutto mi sembra più un po' più molto un po' più realistico il tutto le gocce le ruote mi sembra fatto un po' meglio qua vedete fase di bagnato bandiera rossa perché la gara non può proseguire si può mettere al menu si può scegliere che incidenza deve avere vedete qua si ritirano i piloti fanno degli incidenti nel caso si fermano in strada o ci sia un bagnato violento può arrivare la bandiera rossa vedete qua bandiera rossa si ferma la sessione e nel caso si riparte ma non ho capito qua se ti fa ripartire poi dai box ti fa ripartire dalla griglia come ti fa ripartire però vedete potete cambiare la strategia per la ripartenza in caso di bandiere rosse questa è una figata perché ci mancava va a mettere un tassello in più verso il realismo ma so già che è una cosa di quelle che dopo un po' stufa vedete qua si può cambiare la strategia dopo una bandiera rossa nuovi circuiti ecco la vela sarà molto complessa eccolo dai il Qatar vedete qual era quell'altro bello Qatar è bella come ho visto un po' piccola qua ragazzi vedete mi sembra abbastanza realistico tutto quello che è attorno alla pista le luci sulle gomme fanci e i F1 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 per averlo per averlo il track in prima in giro il track sarà così accurate come possibile è stato designato da tizioni di fotografici di referenze da Ramblas Vegas è stato riparto tutto abbastanza bene grande fluidità non so se la vedrete perché non so in OVS come mi riprende la ripresa dell'immagine sì bello ecco lo sai pure bello dice che è stato rifatto tutto perfettamente usando le tecnologie che ci sono oggi le foto 3D queste cose questo è buono perché avete visto probabilmente metteranno Paul Ricard Sepang Cina piste che non ci sono più nel mondiale fatemi vedere se è Sepang questa Paul Ricard si beh questo dovrebbe essere Sepang se non mi sbaglio non solo Paul Ricard e Shanghai non è in Malesia assomiglia una parte quindi qua dice che il 19 maggio esce un altro episodio per parlarci della carriera beh raga sì ci sono delle novità questo è positivo quindi qualcosa di nuovo c'è speriamo che funzioni secondo me molte cose tipo bandiera rossa sarà bella all'inizio perché è una novità che nessuno si aspetta poi pian piano romperà le balle molti la la potrebbero anche togliere però sostanzialmente a me mi intera la grafica mi sembra migliorata penso che sia una grafica che può girare tranquillamente anche sulla PS5 sull'Xbox Series S non su PS4 Xbox One dove sarà molto più rallentata la grafica molto meno fluida però si vede un miglioramento anche a livello visivo evidente vedremo sembra che è stato rifatto tutto sembra che sia tutto fatto in maniera più accurata speriamo che l'intelligenza artificiale sia stata migliorata anche di poco che sia un po' più sveglia perché altrimenti ragazzi non se ne esce comunque ottime prospettive andiamo a vedere se riusciremo a giocare nella beta che sarà anche per console lo dubito e se no fra un mese il 16 esce noi lo prenderemo il 13 quindi ce lo giocheremo in net anticipo come sempre ciao 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 Sì